Musica E allora ragazzi, ciao da Nick e bentornati su The Sims 4 Siamo qui con il nostro Nick e virtuale ma ho notato una cosa che mi ha sconcertato Com'è possibile che ho i capelli bianchi e sembro un vecchio? Qualcuno me la spiega sta cosa? Non mi pare che nell'ultimo video avevo i capelli bianchi e soprattutto che ero ancora più rincoglionito del normale Cioè mi pare un po' più rincoglionito del normale Cioè parla da solo davanti al frigo per me qualcosa che non va c'è Mi sento leggermente preoccupato ragazzi, il mio povero Nick mi sa che sta a diventare strano Comunque avevamo detto che quindi avevamo le nostre due giornate, no una giornata libera Dal lavoro, quindi che cavolo possiamo fare? Dunque qualcuno mi ha dato qualche consiglio, mi ha detto che potrei anche fare dei lavoretti a casa E non per forza dover andare al lavoro E quindi beh, allora, vediamo un po' Qualcuno mi ha detto, potresti fare il pittore Ok, andiamo a dare un'occhiadina quindi a questa cosa Quindi, adesso non lo so dove si trova Aspetta forse ci siamo Studio, ok Eccolo qua, hobby e abilità Ci sta anche il computer, no Mi hanno detto allora di provare con la pittura Microfono Eeeh, no Cavalletto No, questa è roba più Eccolo qua, qualità del dipinto Più abilità pittura Ok, costa 3,50 Abbiamo pochi soldi, però abbiamo una giornata libera E lo voglio provare Ok, abbiamo pochi soldi Però vediamo un po' se... Perché mi hanno detto che con la pittura si può guadagnare molti soldi E potrebbe valerne la pena Quindi tanto vale rischiare Oh, oh, che succede? Ma, oh, ma sto personaggio mi è già diventato vecchio ragazzi Ma io c'ho paura che muore questo C'ha mal di schiena Parla da solo Parla col frigo Ma che succede? Come mai? Ma mi sembra strano che nel... Cioè, da ieri a oggi è diventato così vecchio Cioè, ma come posso pensare di far figlio a sto vecchio qua? Ma non mi assomiglia neanche un po' Alla io ho detto Mo' che è successo? Bevanda deludente? Che te l'ho fatta io? Da, sei fatto da solo Va bene, allora È deluso per quanto tempo? Per quattro ore questo è deluso? Questa era una schifezza Ok, allora Vediamo un po', dai Ci sarà da socializzare E allo stesso tempo E allo stesso tempo devo far sta prova Dipinto classico Ammazza 50 dollari Speriamo che ne valga la pena Non è neanche ispirato Quanto tempo ci vuole? Ok, ecco il primo dipinto di Nick È una vera e propria goduria Guarda, è pure bravo Uh, 73 Abbiamo pagato 50 Osserva 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 Magari Magari Ne ricavi qualcosa di buono Dici Mo' insomma Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Uh, chi è questo? Famola entra Invita a entrare Oh, ciao Tutto a posto? Eh? Ah, ti piace? Albino è Ma che Albino è? Chi è sta roba? Anzi, a dire la verità Ci sediamo insieme, cara? Io guardo come ride È contento di vedermi, eh? Ah, banana Sgazziato nei pantaloni Questo non capisce niente Questo non mi assomiglia niente Mamma mia E cricchi cricchi Ma che cricchi Questo è già motto, eh? Ok E lei mi sa che tra un po' se ne va così Chieditela sua giornata Poi vorrei capire cos'è che fa sto Oh, bebe dance? Oh, bluffy? Eh, qua ne è? Che so io E l'esca è quando uno va a mare Cioè, ci andiamo con la ma... Ci andiamo in maschera a pescare Così non ci riconoscono perché è illegale da ste parti E ci sono anche dinosauri, può essere O forse la vuole portare al museo Può essere, no? Eh Ah, è Picoa e... Un anello legato a qualcosa Ok E poi fanno un po' dei pesi perché qua stiamo a diventare vecchi E poi ti porto davanti al... Come caspita si chiama Che ti sputa in faccia All'amo, scusate Ti porto dal lamo Che tanto tra pesca E baseball Ma che sta pensando questa? Al muro bianco E manette Questa dice Se c'è cattivi su di me Dice te mando in prigione Prima l'anello E poi ci stiamo per le feste Dice questo, guarda Aspettate, metto un po' piano Perché mi spacca le orecchie La tipa che parla forte Dove, caspita Stanno le opzioni Allora, mi so perso Ah È la stessa cosa Dove sono la... Mi sa... No Dov'è? Ah Nick è cieco ragazzi Ve lo dico prima Allora, siamo un po' le voci Che quando parlano Sembra che urlano Eh Vuoi un panino Un tramezzino Ah Ciobar Siente Ma questo è diventato vecchio Era più giovane Quando l'ho creato Questo dice Ma questo Ma la raga Ma qui Mi sa che questo è il marito Senti Nonno È pure ubriaco Senti Bello Avevi a romper l'anima Ma va Che qua si sta a copulare Parliamo un po' di cucina Ti piacciono i maffi Ah insomma Diciamo Tu e io Sì Sai Mi pare una statua Mi sembra una statua Di Picasso Però un po' corrotta Perché è brochi Ah stella No E quella L'ha messa Sulla bro Di natale Ecco Sciobabue Ma ci hanno fame Scusa Scusa Mia amica mia Mi devo andare a fare Una cagata Scusate Scusa È necessario Se mi vuoi Cioè Non penso che mi vuoi seguire Quindi Lasciamo perdere Ho capito che sei a disagio Ah Dopo una bella cagata Lui è felice Vedete C'è pure scritto Lui è mega felice Lei intanto chatta Spero A proposito Siente ancora tu Lui sei Ma dopo un'ora Ancora Sei fatto convinto Andai Bravata Vai via Mo che c'ha Questo È sempre un disagio 17 minuti Di disagio Ah Sono felice Siente Lo mandi a cagare A sto tipo Per favore Chiediti di andar via Siente Bello Avapangu Ha capito da solo See you later Te ne vai pure tu Mi sa che quello Era il marito E lei Lo segue Aspetta 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 Romantico Chiedi Chiedi se è single Però Non è che Ma A dire la verità Non è che è tanto bella Almeno si cambiasse di abito Sei zombo yos Ma tu sei zombo yos E lì sei single Oh Ah Nessuno la vuole Perché sembra una gallina Dice E perché me la dobbia io Se sembra una gallina E lui sa ridere A un marito Sono vecchio E quindi Essendo vecchio E così no Ti do una pietra in mano Ina Chi è Ina Non la conosco Eh sì Follabu No no Quello è un cd Non è un Follabu A nord si trova Quale a nord Aspetta Dov'è sto a nord Scusa Le mosche Non le hai mai viste mai Ma sai quanto sono simpatiche Poi quando le schiacci Sono a goduria Sai No Non mi assomigliano Le mosche Disgraziato Ma che pensa questo Ecco Ah Pensava Una bella poltrona Massaggiante Sì sì Questo già è molto più interessante Sai Tu e io Sì sì Tu e io Una poltrona Sì 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 Tu e io Tu e io Tu e io Sì 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 Con un po' di coppa a coppo Dice E un po' di coppa a coppo Let's go E poi ci mangiamo un tramezzino Che però è troppo caro Perché soldi non ce n'è Eppi eppi non ce n'è Che soldi non ce n'è Giusto Lo carrammato Quello su GTA 5 l'ho lasciato È là Nossa Nossa Che cazzo Nossa Nossa Cioè c'è la ragazza E tu pensa la rana Allora Non solo sei vecchio In un giorno all'altro Ma pure scemo Ragazzi Devo cambiare il nome Perché questo non può essere Nick Nick a quest'ora Già Questa Se l'era mangiata viva Ma che caspita Che rompe il cazzo Chi è Ma perché vengono solo maschi A casa mia Ma andate via Andate a rompere le palle D'altra parte Lei no Ma che caspita Nicola Insomma Vai a quel paese Chi deve andare via Nicola Vai via Non rompere l'anima Non me ne frega niente di te Vai via Possa via Nicola Prima che ti prendo a schiaffi Guarda Pure la ragazza Se n'è andata Sgraziata Nicola Si vai a dormire Vai Ma chi con lei T'ammazzo Nicola T'ammazzo Chi è questo Ma sai che cosa Io chiedo a questa Se è single Signora Signora Aspetta Guarda lui arriva tutto T'ammazzo Tammazzo C'è un'altra parte Ma sai che sei bella, l'ho detto a tutte quelle che incontro, quasi quasi pure alle vecchie Anche se un po' me ne pento, già vuoi andare a letto Però mi piacciono, ste donne sono proprio decise Sì però dice prima mangiamo un muffin perché poi sennò Ci vuole un muffin prima di andare a letto E anche una partita con la Playstation Magari due A questa pensa, ma a questa io gli ho proprio anche il letto e questa pensa gioca, porca miseria Tutti a casa mia Ma chi caspita è sto tipo, ma chi caspita lo conosce Ma perché non se ne va a quel paese, io non ho capito Cioè io so qua che il rimorchio e i maschi che vengono a casa mia Ma chi me scambiano per uno di quella sfonda lì Ma andate a quel paese, va Ti piacciono le banane signora Signora le banane le piacciono Ce ne abbiamo banane qua di qualità Non mi dire che fai entrare a sto tipo perché te meno Ecco bravo, non lo cagare proprio, vai a salutare Guarda io dormo, te aspetta, aspetta Sì sì, mo te apro C'ha pure l'orecchino questo Già mi sa che è in mezzo di quella sfonda Senti ma puoi andare? Ora mi alzo e lo mando a quel paese veramente Insulta Oh ma te no vai Lascia Pedro, va sei andato, va Torna a dormire, va che è tardi Lascialo Pedro, va Però deciditi, va Quando è che devo andare al lavoro? Tra 15 ore Anzi fai una bella cosa Prima di andare a letto Fai una bella cosa Venti a un collezionista Vediamo se ciò pagano sto coso Dato che c'era scritto 70 mi pare qualcosa 73, ok abbiamo guadagnato qualche lira Sai che ti dico? Ma io mi licenzio Quasi quasi mi cerco Aspetta mi posso cercare un lavoro di pittura Però perché no mi pare che esiste il lavoro di pittura Come si fa a cambiare il lavoro? Aspetta, telefono Ci dovrebbe essere Cerco il lavoro Lascia il lavoro Chiamali e dì Andate a quel paese Jims mi dispiace Ma ho scoperto che mi piace dipingere Sì sogno deciso Proprio sogno Sogno oggi e domani e dopodomani Quindi sono sicuro Oh yes Ok un nuovo lavoretto Però lo potremmo anche trovare Allora cerco il lavoro Dato che stiamo a fare un po' di pittura Vediamo se troviamo un lavoretto Riguardante la pittura Che può essere che va giusto a fagiolo Perché quell'altro lavoro chiedeva di giocare Io non è che posso giocare Eccolo qua Pittore 21 Simone e on dovrebbero essere all'ora Si lavora Lunedì Ok quindi si va al lavoro diciamo domani Ok lo accetto dai Quindi si va al lavoro tra 13 ore Non è molto Torniamo a dormire Ok niente festa quindi per ora ragazzi Ah ma ancora questo c'è Ma porca Ma ora se ne va perché è tardi Penso che pure lui va a dormire A meno che questo non entri Ma lo trovo insieme a me nel letto E allora veramente lo meno è di brutto Ma io dormo me ne frego di lui va Ma poi se ne andrà no Ma poi gli viene sonno a questo no Ah fa un culo Vai via Va pussa via Sgraziato Ok Che ora è? Sono ancora alle 21 Teoricamente Beh Dormiamo un po' E facciamo un po' di pittura Che ho capito che Qualcosina se la guadagna Poi andrà al lavoro E quello è il problema Ci stanno le mosche Non è un bel vedere Scusate Ok E' un po' ancora presto Diciamo però Ci alziamo perché Deve andare in bagno Il poraccio Già è vecchio Poi un altro po' Mi diventa pure stitico Io dico Ma scusa E' in piedra Una lase fa Vero no Ma che è un pantofole Vabbè certo Diciamo che sarebbe Pijama sta roba Però Allora Tira lo sciacquono Perché già Sento mosche ovunque Vediamo se riusciamo A mangiare qualcosa Fai un pasto veloce Mangia dei cereali Va Spera c'era un più tre Un più tre Come mai? Cioè Mangiamo qualcosa Recuperiamo un po' di Un po' di Upsi Allora Vediamo un po' Lavoro Raggiungi il livello 2 Di pittura E ancora siamo Credo a livello 1 Già E poi cos'è? Osserva o ammira Tre opere d'arte Questo per Requisiti di promozione Quindi per avere Una promozione Devo osservare O ammirare Tre opere d'arte Diverse E raggiungere Il livello 2 Di pittura Ok Penso che Si può fa Allora Ripulisci Togli sto schifo C'ho quadri in casa io Perché dice Osserva tre quadri Ma a me mi pare che quadri in casa Non ne abbiamo Oh madonna la vecchiaia Come si Diciamo insomma La vecchiaia Scusate Dipinci 50 dollari Dai Ma son messo male Se però Ok Vabbè dai Sembra una giornata di lavoro Adesso arriva Quindi qualche soldo A casa lo porterà Vediamo un po' Ha quasi finito Vedo Ha disegnato un cavalluccio E' bello E' bello alzarsi alle 4 di mattina O meglio erano le 2 Quando mi sono alzato Per disegnare Un bel dipinto Dice che è uno schifo Dice lui Però vabbè Gli diamo ragione Non si sa Allora Osserva Così teoricamente Mi dovrebbe dare Eccolo qua Il primo punto Perfetto Non l'osservare più Tanto è una schifezza Quant'è che vale 77 Quindi ci abbiamo guadagnato 27 27 fave Dice lui Favi no 27 fave no Allora Me ne fai un altro Dai Prima di andare al lavoro Disegniamo Al lavoro mi pare Alle 9 di mattina Quindi dovremmo riuscire Ok Bene Dai 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 Vedi se riusciamo a finirne 2 Che forse fosse Magari ci becchiamo già La prima promozione Ancora Subito subito Ah no ma Ah no Sgraziato Mi disegno Lo stesso quadro Mi disegno Ah no Me l'ha dato per buono Ok Venti a un collezionista Però prima di domani Oh yes 79 Oh yes Fammene un altro Stavolta è pure ispirato Quindi potrebbe valere Qualcosa di più Dato che dice che è ispirato Espressione artistica È ispirato L'ha quasi finito L'ha finito Osserva Oh yes Dovevano essere tre opere diverse Ma sono tutto uguali Venti a un collezionista 102 Ottimo Bene Allora Tra non molto si va al lavoro Direi che famo una bella colazione Fai colazione perché sono Strippato È ispirato Sono strippato Ma dove mi vengono in mente ste parole Che fa? Lo strippi? Lo strippi? Ma che strippi? Ma io ancora ragazzi non ho capito perché sto tipo è diventato vecchio all'improvviso Cioè se qua si invecchia nel giro di un paio di ore Stiamo messi bene La vita quanto dura? Due settimane Cioè è un vecchio ragazzi Ma è un vecchio Tra poco questo qua neanche figlio può avere Non mi assomiglia per niente Sappiatelo prima Non mi assomiglierà mai neanche un po' Un po' di scimmie ci vuoi mettere lì Ma che stai a dire? Dai giro sta frittato A casa schifezza insomma che sta combinando Certo sporchiamo due padelle Una non te va bene vero? Aspetta che io ho visto la gnocca Eh no lasciam perdere questa è la nonna Però la nonna comunque si tiene bene in forma Oh flash oh flash sì oh flash Però signorina tutto a posto? Come va? A me non me frega niente vabbè Allora come va te jumbo? Ah no lo jumbo l'ha detto il bambino vabbè Oh yes livello 5 di cucina Quasi quasi potrei anche lavorare come cuoco Beh d'altronde già lavora in pizzeria quindi Lasciam perdere non fa per me meglio la pittura Magna che te fa bene Che sei pure ispirato con l'aspirapolvere Stamattina ti abbiamo ispirato Si va al lavoro tra un'oretta teoricamente Nick inizia a lavorare tra un'ora circa Ok cosa possiamo fare prima di andare al lavoro? Che caspita ti mette a fare il quadro ora che devo andare al lavoro Mannaggia Il bello è che devo andare appunto lui a dipingere E che fa se mette a dipingere Il bello è che mi ha speso 100 dollari senza chiedere Che magari mi potevano servire E questo è uno di quei quadri lunghi che ci mette tre ore a farlo Però vediamo Ho sentito qualcuno bussare o Oh gioia Mannaggia questa mi viene quando devo andare al lavoro Ma non descrivi Purtroppo ti devo chiedere di andare via sai Ok mi dispiace Il dipinto lo finiamo dopo Aspiccete Saluta la team Guarda gioia devo andare al lavoro Mi dispiace ci becchiamo Lui è sparito nel nulla Ok Nick si trova al lavoro Se abbiamo un po' di cosiddetto Q Magari riceviamo chi lo sa La prima promozione col primo giorno di lavoro Bene lui è soddisfatto Io insomma Meno male che ancora bollette non ne sono arrivate da pagare Dovrebbe tornare alle 17 Come mai Ai ai Ho già tornato a casa Meno male dove è Anzi scusami non lo vedo 168 E promozione col cavolo Però ci siamo vicino mi sa Ok ci siamo vicino E stanco molto Che ora è Famogli fa un pisolino Prima che venga la ragazza Perché quella viene di sicuro Famogli fa un pisolino Eccola la che l'ho chiamata Te pareva Mannaggia lei Proprio ora deve venire Mannaggia ma sono stanchissimo Occidente Chiedi di andar via Che ne so Lo so che non è l'ideale dire vai via Però è stanco È stanco Finisce che il rapporto lo rovina Mi dispiace Devo farmi una dormita Mi scusami tanto Questo poi c'ha pure la schiena a pezzi Ne parliamo Vediamo se riusciamo a farlo dormire un pochettino Ok E diciamo che è completamente scassato È peggio di un vecchio Porca miseria Ho sbagliato Sicuramente ho scelto adulto Era meglio se ci avevo giovane Ok dai Ha dormito abbastanza per ora Direi che È arrivato il momento di svuotare la vescica Bravo Se smuove pure mentre piscia L'igiene è andata a farsi benedire Anzi aspetta Non fare la doccia Fai La doccia riflessiva Che forse gli aiuta a riflettere Vediamo un po' L'igiene va abbastanza bene Dovrebbe divertirsi un po' Quindi direi che magari ti guardi un canale comico Dai porca caccia tua Che sei completamente giù de morale Giocoso Ok Va bene Direi che è arrivato il momento Che mangi qualcosa Vediamo se c'è qualcosa nel frigo Non c'è un bel niente Viva dove? Chi è che ha detto viva dove? Fai un pasto veloce Preparati Servi la cena Cena Spaghetti Dai mangiamo spaghetti Anche se sono le 11 di sera Ah no Ah spicci da mangiare però Ah Oh yes Dai prima che questo Mi muore da fame Che bello che sa Ride Oh yes Ro show Ro show Ro show Ok Le energie è un'altra volta Se le sono andate a farsi benedire Allora Riprendiamo un po' La pittura Dai è veloce Ria disagio Livello 3 di pittura Ottimo Dai dai Finisce e poi Tramai a letto Dai Quanto vale sta roba 193 Dai vendila Vendila Vendi a un collezionista Oh yes Torno a dormire Domani si va al lavoro Vediamo un po' Anzi il lavoro come va In carico del giorno Crea dipinte appena iniziato Che significa appena iniziato Allora alle 9 si va al lavoro Quindi Ci alziamo che sono le 6 Ok la batteria Diciamo carica Usa Una breve cagata rigenerante Non c'è niente di meglio nella vita Giusto? Ok Quindi il lavoro che dice Appena iniziato Quindi dipinci un po' A parto Questa è una cosa nuova Ehm Famne uno piccino Ah che è veloce Perché io non lo so Perché c'è scritto appena iniziato Però voglio capire se Se per caso cambia la scritta Perché dice appena iniziato Ci siamo? Oh yes Oh yes Sì ma sbrigate però Fatto Quando è che vale sta roba? 58 Niente vale Non vale niente Pochissimo Tempo perso Questo è stato un tempo perso Però abbiamo 500 dollari Dai comunque Qualcosina l'abbiamo presa Ehm A proposito Il lavoro che dice? Fatto al 50% Ah shit Tra un'ora circa Fai un dipinto veloce Vai Però mi sa che non serve a niente Dai 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 Finiscilo 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 Però prima di domani Finiscilo Un altro un altro un altro veloce Mi sai che non c'è la fame È già troppo tardi Devo andare al lavoro C'è pure uno che rompe l'anima Io ora di andare al lavoro Mi sai che mi faccio licenziare Sbrigate Questo ci mette tre ore Vai 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 Non lo so se ha reso l'idea Non so se ha funzionato Il fatto che io ho detto Cioè se facevo un ultimo dipinto Era 100% E forse mi danno un aumento Al lavoro Perché era 75 no I requisiti per aumentare Per la promozione I requisiti Vediamo un po' cos'è il lavoro Ok Però mi sa che mi licenziano Perché sono andato con Tre quarti d'ora di ritardo Le mosche io vorrei capire Dov'è che si trovano Perché mi stanno da fastidio In cucina no Nel bagno no Ma è che le mosche stanno Perché c'è la rana Vero Ok la tipa purtroppo L'ho dovuta mandare Già un po' di volte Ma Ok è teso Ma sta per tornare da lavoro Speriamo che torna Anche quello fa le flessioni Mega veloci Speriamo che torna Con la benetta promozione Che bene o male Insomma è stata una fatigaccia Tornerà alle 17 Sono le 15 Mancano ancora due ore Prima che lui torna O meglio che Prima che io torno Che c'è Oh sto caspita De vecchio Mi sta a rompere I cosiddetti Molo piglio E lo ammazzo Non te voglio Non te caga Nessuno Cioè ma chi caspita No I pari Ma guarda questo Ma che non va a rompere l'anima Qualcun altro Ma ho capito io I ragazzi non vengono Mi vengono stiti Oh yes Promozione Mi sono pure uscito dal gioco Dalla felicità Però è stanco Ok abbiamo avuto una bella promozione Lui è stanco morto Dunque ragazzi Oggi direi che Devo fare un video più corto Diciamo che 50 minuti Sono effettivamente Erano un po' troppi Mi devo un po' limitare Non posso effettivamente Cioè ci metto troppo tempo a caricarli Quando sono di 50 minuti Quindi oggi Finiamo qui Però diciamo che Cosa abbiamo di diverso Abbiamo che abbiamo lasciato il lavoro E abbiamo iniziato Un attimo Abbiamo lasciato quel lavoro Abbiamo iniziato il lavoro di pittura Che però Lo facciamo come supplemento Al lavoro Che facciamo anche a casa Che bene o male Sto dipinto Oh guarda qua Pagato Pagato 50 dollari E me ne rende 135 Oh io No ora lo insulto Ora mi ha stufato Cioè ma se ne devo andare Ma chi è Ma vai via Impara a conoscere Spaventa Spettacola Invita Altre certe Va a quel paese Perfido Insulta Senti ma da ne vai Non va a quel paese Per favore A vangolo Vai via Ha rotto il pao Lo capito Oh Non lo posso Non lo posso neanche Mandare via sto questo qua Vai via Sparisci Elisa sta per arrivare Elisa mi sta bene Te per favore Senti basta parlare Con sto tipo Ha Ha vangolo Va bene ragazzi Allora tra poco Arriverà Elisa Ma io sono stanco Morto E lui Spicò Mannaggia Mo bene Elisa Io sto già a dormire In piedi Già lei è dietro l'angolo Io e lei No questa è Sara Va bene ragazzi Quindi spero che questo gameplay Vi sia piaciuto Come sempre commentate Iscrivetevi al mio canale Se non siete già iscritti E lasciate un bel pollicione in su Se il video vi è piaciuto Raga Ci becchiamo presto Nel prossimo video Dove verrà Elisa E vediamo se si riesce A concludere qualcosa Ma purtroppo la stanchezza È proprio una cosa terribile Quindi vedremo Raga Vi saluto Ciao alla prossima Ciao a tutti